Musica Auguro di una buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Ripartiamo la settimana oggi commentando quello che è stato l'esito delle primarie del Partito Democratico. Una riaffermazione fortissima di Matteo Renzi che quindi è di nuovo segretario del Partito Democratico e da qui bisognerà capire quali saranno le linee guida fondamentali, dove andrà il partito e ovviamente quali saranno le prospettive anche per le elezioni nazionali che probabilmente saranno a scadenza naturale nel 2018. Intanto ripartiamo però anche da un voto della Toscana che si conferma insieme all'Umbra sostanzialmente una roccaforte del Partito Democratico anche e soprattutto per Matteo Renzi, da qui ripartiamo, bene anche il Sud che era forse la parte più preoccupante per i renziani invece anche lì l'affermazione è stata piuttosto forte. Facciamo il punto nel servizio di Chiara Elce e poi ne guardiamo in studio. Insomma, chi si aspettava la debacle, la sconfitta, addirittura la scomparsa del PD è rimasto deluso. Le primarie DEM, cissionisti o meno, hanno sancito che il partito è sano, vivo ed è l'unico che in Italia annovera tali numeri per scegliere i propri dirigenti. A dirlo in sostanza è il rumorosissimo silenzio di queste ore di Grillo, Salvini e compagni. Non solo a vincere, o meglio a stravincere, è stato il loro acerrimo nemico Matteo Renzi che riparte dai gazebo per riaffermare la propria leadership interna al PD. Il rottamatore infatti si è affermato superando di un centesimo il 70% dei voti, pari a circa 1.200.000 schede. Tra i primi a complimentarsi con Renzi, il collega francese in corsa per l'Eliseo e Emmanuel Macron che ha scritto, insieme cambieremo l'Europa con tutti i progressisti. Ma il risultato è anche tutto toscano, perché proprio la legione che ha dato in Italia all'ex premier dopo Lumbria è quella dove Renzi ha preso più voti, riconfermando anche la capillarità del suo messaggio attraverso sindaci e amministratori che l'hanno sostenuto. Ma la vera sorpresa è stata il Sud, che tolta la Puglia, ha votato compatta per lui. La partita adesso entra dunque nel vivo, in mano a Renzi, alcune questioni di rimenti, la legge elettorale, che lui vorrà il più possibile di stampo maggioritario, il rapporto col governo, dato che in questi mesi non sono mancate le critiche, le alleanze in vista delle elezioni 2018, Pisapie e centristi, due possibili fronti a cui guardare e non ultimo il Partito Democratico stesso, che deve riuscire a mantenere e sfruttare la spinta unitaria dimostrata in questa tornata elettorale. Renzi dovrà mediare e tenere insieme le parti, iniziando proprio dai competitor Orlando e Emiliano, che comunque hanno in dote un terzo degli elettori PD. Oggi, tuttavia, vale ancora la pena sottolineare quel numero, due milioni, che sono le persone che hanno deciso di recarsi nei seggi per scegliere il proprio segretario. Un numero che nel mare magnum dell'antipolitica, della disillusione, della lotta all'establishment, rappresenta un segnale chiaro contro il disfattismo e la violenza verbale a cui la politica si è oggi abituata. Allora, questo è il punto di Chiara Elci, c'è da dire che rispetto al servizio, insomma, il rumorosissimo silenzio di Grillo, in qualche modo, è stato rotto. Anche di questo parleremo oggi, perché qualche polemica è arrivata. C'è anche una questione, insomma, sulle percentuali, un 2% che balla e dovrebbe andare, che Orlando, insomma, i suoi sostenitori sostengono, che deve andare a lui, tolto invece al voto di Matteo Renzi, ma non cambia ovviamente gli equilibri sostanziali, quello di un'affermazione forte. Noi oggi ne parliamo con i nostri ospiti, ve li presento, accanto a me Stefano Passiatore, sindaco di Dicomano, Renziano di Ferro, diciamo così. Buonasera. Buonasera. E buonasera a Fabio Incatacciato, che è segretario metropolitano del PD. Buonasera, buonasera a tutti. Vorrei partire proprio da Incatacciato per capire, insomma, sostanzialmente che cosa rappresenta questo voto oggi, se va oltre le aspettative, sia per Renzi che in termini di affluenza, perché sull'affluenza molto si è detto rispetto a quelle che furono le altre primarie, quindi che è un risultato soddisfacente per lei? È un risultato straordinario, perché noi abbiamo vissuto gli ultimi 20 giorni di campagna elettorale con questa litania, questa sorta di funerale anticipato sul fatto che queste primarie sarebbero state un flop. non contando il fatto che ci possano essere anche competizioni come queste, che sono meno accese, che mettano in campo argomenti meno forti rispetto a qualche anno passato, ma questo è anche un segno, secondo me, di serenità, di una discussione comunque importante. E invece il dato non è stato questo, perché quasi due milioni di elettori che vanno a votare sono un fatto clamoroso in Italia, sono oggi un fatto clamoroso. E segnano... In Europa, vorrebbero dire. In Europa, in Europa. Segnano il fatto che il PD è l'unico partito che fa questo, che apre così tanto con questo straordinario esercizio di democrazia, segna il fatto che questa comunità è molto forte e molto presente. A Firenze ha votato 60... nella nostra federazione ha votato 60.000 persone che sono tantissime. Insomma, noi sostanzialmente riempiamo due volte i franchi, se vogliamo fare un esempio calcistico, di nostri elettori che in una domenica complicata, anche di ponte, sono venuti. E poi c'è stato questo risultato che questo sì è stato netto, ma oltre ogni più ottimistica previsione. Voglio solo dire che questo congresso era cominciato con tre luoghi comuni, sostanzialmente. Il primo è che il PD non avesse più nessun rapporto con la sua base e con i suoi iscritti. Il secondo è che questo partito non avesse più rapporto con l'Italia e con la gente, con la società e il terzo è che Matteo Rezzi fosse diventato una sorta di nemico pubblico di qualsiasi luogo democratico. Questo era quello che è uscito da chi ha fatto la scessione e anche da tanti commenti, secondo me, che si sono sentiti tre mesi fa. Bene, gli iscritti ci sono stati, hanno votato in una percentuale maggiore rispetto al passato, hanno segnato che questo è un partito anche e soprattutto insediato nella base. Il secondo si è dimostrato che due milioni di persone non c'è bisogno di dimostrare nulla, parlano da sé. E il terzo elemento, Matteo Rezzi, è ancora la figura che molti hanno scelto perché la individuano come quella che è in grado di dare una risposta importante al riformismo italiano. Volevo chiedere una cosa, Stefano Pazziatore, proprio su questo, su una delle parti, diceva anche Fabio Incatacciato, cioè il rapporto con la società ma anche e soprattutto con i territori perché insomma dopo il 4 dicembre effettivamente sembrava che il Partito Democratico veniva raccontato come un partito in declino evaporato in qualche modo. Ci si è dimenticati spesso e in realtà poi il Partito Democratico continua a amministrare tantissimi territori con tantissimi sindaci, presidenti di regione, eccetera. Quanto quindi in questo senso qui, lo chiedo proprio a un sindaco, quanto il lavoro sul territorio, quanto il legame tra il singolo cittadino, magari anche quello distante dalla politica e non sta per forza tutti i giorni a ascoltare le periodi che vengono dette in televisione e il Partito Democratico c'è ancora perché questo sembrava la prima cosa che si sarebbe sfaldato dopo il referendum. No, è chiaro, il legame c'è. Mi sento però di dire che determinante per questo risultato non è stato il posizionamento di alcuni sindaci rispetto alle varie mozioni, certo, ha contribuito nei comuni più piccoli il rischio di essere determinante perché in alcuni comuni, soprattutto nei circoli, ci sono state qualche decina di persone a votare quindi è naturale che la posizione di un amministratore possa cambiare ma mi pare evidente che qui in gioco ci sia un voto che è un voto prettamente di opinione. Le posizioni dei sindaci più in vista in un campo e nell'altro non hanno ribaltato i risultati. Magari l'hanno spostato nella prima fase del congresso. Quello è assolutamente verosimile. Mi piacerebbe che si mettesse da una parte un po' le polemiche le abbiamo Fabio analizzate bene ci piacerebbe a tutti aumentare la partecipazione figuriamoci va contestualizzato veniamo da un periodo di governo e sappiamo che sempre il governo è un elemento che acuisce le relazioni con alcuni settori della società una data che insomma ricordiamoci 2013 abbiamo votato l'8 di dicembre nel 2009 quelle precedenti se non mi sbaglio era il 19 di ottobre non c'erano ponti non c'erano belle giornate come quelle del 30 invece la bella giornata l'abbiamo avuta davvero perché abbiamo avuto quasi due milioni di persone a votare per cui dobbiamo essere tutti contenti anche chi non è del PT deve essere contento che si dia spazio alle persone che si dia anche una forma di incanalare anche un po' di sentimenti difficili delle persone di disagio questo è comunque un modo per far esprimere le persone ecco accanto a questo dico anche che chi non è del DPD ora la può anche far finita di predicare perché come predica non lo sappiamo nessuno si può mettere a livello DPD in termini di partecipazione come razzolano è ancora peggio penso soprattutto all'idea che un movimento come quello di Beppe Grillo il Movimento 5 Stelle possa dare lezioni di democrazia quando ho una cartina che dà alcuni numeri su quante persone hanno partecipato alle loro primarie fatte di click per la scelta dei sindaci ecco nel Mugello abbiamo fatto partecipare più persone che il Movimento 5 Stelle in tutta Italia quindi insomma questo la dice lunga sulla capacità se prendo non lo so Cuneo dove hanno votato ben 38 persone il candidato ha preso 19 voti ma di questi esempi ve ne potrei fare decine insomma è evidente che c'è una discrepanza impressionante allora volevo chiedere però a Fabio in catacciato anche tra virgolette l'altro competitor abbiamo parlato del Movimento 5 Stelle poi dopo parleremo anche di possibili alleanze e convergenze però volevo sapere insomma se questo messaggio va anche a chi è uscito dal Partito Democratico secondo lei perché insomma c'è qualcuno che ne sta fuori certo che va lì perché ha ragione Stefano a parlare di certo proprio questo è il punto ha ragione Stefano a parlare di un elemento diciamo un voto di opinione più che di opinione ma che riguarda una parte importante della società civile però guardate dentro questo voto c'è anche e noi spesso ce lo scordiamo una mobilitazione forte che c'è stata da parte del PD su alcuni temi è imperante quello sul referendum perché non è che non lascia nulla quei 12 milioni di persone ci sono ci credevano davvero e tutto il PD ci è andato con patto chi ha pensato che si sia perso il referendum perché c'era un'area forte la sinistra non è così in termini numerici non è stato così questo c'è stato anche un lavoro importante sui territori Stefano è uno dei sindaci che si è mosso di più per quella campagna elettorale ma non perché ci fosse una direttiva dall'alto ma perché come tanti ci credeva e credeva che quella fosse una svolta importante per il nostro paese ma quella ha lasciato un segno è rimasto tante persone che noi abbiamo coinvolto in quei tre mesi che sono finiti come sono finiti sono rimaste convinte che quella strada sia interrotta ma va ripresa perché se no l'Italia e poi soprattutto l'Europa non ripartono più allora chi a sinistra pensa che uscendo si può recuperare un campo dei delusi di quelli arrabbiati che il no al referendum si è perso perché c'era un'ampia area populista e della destra e fatta soprattutto di grandi privilegi che non ha voluto quella svolta perché da quella svolta sarebbe probabilmente stata portata via e io credo che a sinistra del PD ci siano persone ci siano idee ci siano cose ma ci sia soprattutto il Partito Democratico che è l'unica soluzione è l'unica svolta per poter rappresentare ancora una strada dove si cambino le cose e dove si stia davvero vicini a chi è in difficoltà quindi chi è stato fuori in questo momento a per una questione ovviamente legata alla comunità non si è parlato di loro perché poi c'è anche questo b rischia secondo me di isolarsi ulteriormente io ho ripetuto quella scelta una scelta sbagliatissima e penso che dopo queste primarie ci sia la conferma di questo volevo chiedere a Passiatore visto prima aveva parlato del Mugello di fare un accenno proprio sul voto nel Mugello perché insomma qui ci sono alcune situazioni anche piuttosto interessanti c'è Borgo Sal Lorenzo che aveva una situazione nel Partito Democratico molto in divenire adesso l'ultimo atto è stato quello del sindaco che è entrato che ha preso la testa del partito anche lì si è affermato Renzi forse Borgo Sal Lorenzo è stato il risultato peggiore per Renzi in tutto il Mugello è comunque sopra l'80% sfiora l'81% sì è chiaro è un peggiore molto virgolettato è un comune più grande è una percentuale si abbassa però insomma è un argomento interessante anche perché lì c'erano anche lì se non sbaglio c'era il vice sindaco che appoggiava Andrea Orlando lo stesso nel suo comune insomma come si ricuce adesso in questo momento la situazione del Partito Democratico anche nei territori in Mugello prima di tutto no ma ritengo ci sia niente da ricucire non ci sono rotture c'è una dialettica molto tranquilla chi ha partecipato alle discussioni sulle emozioni si è accorto che una buona parte di emozione di programma di cose da fare di idee è comune ai candidati forse con il Milano un pochino meno ma con Orlando è assolutamente comune certo ci sono alcuni elementi che ci hanno diviso l'idea del segretario premier ma sostanzialmente su come cercare di far ripartire il paese anzi no ripartire su come continuare a dare slancio a alcune politiche c'era molta condivisione e quindi non c'è da ricucire certo magari ecco sulla premessa ci sono idee diverse penso io ritengo che il mio partito sia stato poco orgoglioso in questa fase dei risultati che abbiamo ottenuto lo storytelling di Orlando puntava più su quello che non siamo stati capaci di fare che è un'analisi importante che va tenuta in considerazione mi fa piacere l'abbia detto Matteo Renzi la sera della proclamazione del segretario però non abbiamo fatto tanto quindi in Mugello non c'è da ricucire il partito di Borghi è un partito che negli ultimi anni non negli ultimi mesi negli ultimi anni ha rimesso in moto un meccanismo c'è stato un chiarimento all'interno un tesseramento che ha portato molte più persone ad avvicinarsi al partito rispetto al passato quindi penso sia una conseguenza sì dirò di più durante questa fase la fase delle primarie il giorno 30 circa il 10% in più di iscritti si sono affacciati al PD a Dicomano eppure nessuno ha fatto campagna per il tesseramento perché eravamo concentrati su altro in questa fase eppure c'è stata voglia di dire voglio essere partecipi in questa fase politica che si prospetta delicatissima ne parleremo il tema delle alleanze insomma non è affatto semplice provare ad avere una visione di medio periodo l'altra cosa che abbiamo scoperto è che sentivo stamattina un'intervista a Rossi in radio abbiamo una nuova figura quello del commentatore delle primarie altrui sono tutti diventati esperti di prima non le fa nessuno ma sono tutti diventati esperti e quindi sulle analisi sui voti persi sui voti comprati per alcuni si legge di tutto si legge di tutto sta di fatto mi pare evidente c'è un'indicazione chiarissima sul segretario che non sono i due punti più o i due punti meno che possono mettere in discussione mettiamo da una parte la matematica e cominciamo a riparare di politica fra qualche mese ci sono le elezioni amministrative fondamentali infatti questo è molto importante su questo chiudiamo la prima parte volevo chiedere in catasciato poi nella seconda parleremo dei temi legge elettorale del governo alleanze volevo chiedere però in catasciato insomma com'è andato anche così un occhio sulla nostra regione anche nei comuni là dove si andrà a votare alle amministrative anche nella nostra provincia di Firenze ce n'è qualcuno e poi sostanzialmente insomma se come dire la Toscana si può ancora considerare una roccaforte per Matteo Renzi evidentemente i numeri dicano questo e sul risultato del sud è sorpreso la Toscana ma guardate torno a prima la Toscana è una regione dove per esempio il SIA referendum aveva vinto bene nella nostra provincia aveva stravinto quindi poi questi sono dati chiari in qualche modo sì mi sembra che il dato anche sulla regione sia di una affluenza buona e di una di una vittoria netta con pochi punti percentuali meno rispetto alle federazioni dove Renzi ha preso più voti Firenze Empoli rispetto rispetto al resto quindi è un dato omogeneo che si lega a tutto noi dobbiamo fare uno sforzo secondo me lo dissi un mesetto fa proprio qui da voi lo dico spesso dobbiamo fare uno sforzo perché è sempre più difficile sovrapporre le grandi questioni nazionali e le questioni del partito alle elezioni amministrative e alle elezioni locali che sono poi elezioni che hanno storia se ovviamente il partito democratico deve fare la sua parte deve costruire gruppi dirigenti deve trovare candidati sindaci all'altezza riconfermare quelli che hanno fatto bene ma poi lì ci sono vicende che vanno oltre se noi non la facciamo questa divisione tutte le volte andiamo a commentare un voto in un comune parlando del PD a livello nazionale le cose non stanno così assolutamente vi posso chiedere entrambi però in 30 secondi qual è se c'è un dato che vi ha il dato che vi ha stupito di più insomma in queste primarie forse davvero il sud ad esempio è andato molto bene per Renzi Emiliano si è affermato soltanto in Puglia o cos'altro insomma è intratasciato ma il dato sì anche secondo me è quello del sud perché è una zona nevragia perché è una zona in difficoltà perché è una zona dove il PD è fortemente in difficoltà e quindi lì ci sono state una serie di fattori che hanno funzionato non ultimo il fatto della candidatura di Michele Emiliano io al di là della particolarità con cui è nata che era una via di mezzo un borderline fra l'ascissione e la competizione al congresso io invece l'ho sempre letta come un fatto positivo perché noi abbiamo bisogno anche in gran parte a livello nazionale di rappresentare il sud il PD che è un'esperienza come ricordava Stefano di democrazia vera ha però alcuni punti che funzionano che fanno fatica uno di questi è il sud l'altro lo dico lo butto lì magari può essere un elemento si riprende dopo noi ci presentiamo al nostro congresso per la terza quarta volta di fila senza avere una sola donna candidata e quindi forse questo è un altro elemento un altro punto diciamo per me il risultato stesso di Matteo Renzi è stato risultato oltre le aspettative Matteo è una persona che crea opinione ma abbiamo visto la sottoesposizione voluta che ha tenuto in questa campagna e nonostante questo e penso abbia fatto bene per evitare tutta una serie di polemiche che avrebbe portato con sé nonostante questo quello è stato il risultato io ero nel mio collegio in quinta posizione per l'assemblea nazionale che non è affatto un posto sicuro in una competizione più equilibrata diciamo in questo caso è stato un posto insomma sono stato eletto nonostante appunto non fosse un posto sicuro perché perché una percentuale così molti di noi non la ritenevano possibile invece nonostante ecco noi siamo abituati a campagne anche molto più pressanti e più stringenti questa è stata molto più equilibrata allora ripartiremo dai temi nella seconda parte poi anche il tema delle donne è molto molto importante però parleremo anche ovviamente delle convergenze che ci sono in un momento in cui soffia questo vento proporzionale bisognerà capire quale sarà la legge elettorale ma certo il tema delle alleanze delle vicinanze diventa fondamentale capiremo dove andrà il partito democratico 5 minuti e torniamo in studio ben tornati in studio allora stiamo parlando delle primarie del partito democratico ovviamente un bottino di voti riconsegnato a Matteo Renzi che lo assicura alla guida del partito democratico ma ovviamente questo intanto nella sua figura nel suo messaggio nella sua mozione c'era anche l'idea che sarà lui quindi il candidato premier del partito democratico non era scontato visto che altre candidature dicevano altro dicevano volevano una separazione in questo però forse il primo tema da discutere e adesso ce n'è veramente lo spazio sarà quello della legge elettorale su questo volevo coinvolgere Fabio Incatasciato come sarà la legge elettorale su cosa spingerà il partito democratico a questo punto la legge elettorale è fondamentale per capire cosa succede tutta la discussione sulle alleanze col centro-sinistra è una discussione surreale se noi non capiamo che sistema elettorale abbiamo dipende da ora da questi mesi non dipende dal PD e basta il PD è l'unico partito che per ora ha fatto diverse proposte il Parlamento è stato nella parte che non è rappresenta il partito democratico assolutamente non in grado di ascoltare o di prendere in mano questo tema ora il Presidente della Repubblica ha detto cose chiare e quindi mi auguro che da questo punto di vista ci sia un lavoro che può essere fatto perché noi abbiamo una legge che è il risultato della sconfitta al referendum del 4 dicembre quindi non prendiamoci in giro con questa storia del maggioritario il Partito Democratico ha fatto la scelta più maggioritaria che si potesse fare e l'ha fatta con l'Italicum e non esiste nessuna scelta maggioritaria se non si cambia anche la struttura dello Stato cioè se non si fa una Camera sola io queste cose le ribadisco nonostante il referendum si sia perso perché stanno così non possano stare in un altro modo questa è la conseguenza di aver perso quel referendum purtroppo e quindi è ovviamente un sistema che è calibrato su come la Costituzione costruisce lo Stato italiano con due Camere e quindi è un sistema che è più più in cui è più semplice fare una rappresentanza diciamo proporzionale nonostante questo noi non possiamo permetterci di non avere una guida chiara e soprattutto di andare alle prossime elezioni senza spiegare ai cittadini che voteranno per avere dopo se vinciamo un governo un leader uno schieramento chiaro non scherziamo su questo perché se noi facciamo l'errore di essere ambigui in un sistema che in qualche modo rimette insieme tutto con un proporzionale a metà come questo rischiamo poi di avere anche un risultato elettorale negativo quindi io mi auguro che ora il Parlamento lavori sulla legge elettorale cerchi di superare questi due brandelli di Italicum e di Porcello ma che sono rimasti alla Camera e al Senato e riprenda in mano il tema di dare un governo al Paese il giorno dopo delle urne che è il tema fondamentale di questo Paese da 30 anni abbiamo saputo dargli risposte passate la stessa domanda anche però aggiungendo un tema forse perché sul fatto dell'alleanza diceva prima in Catasciato al di là di quelle vedremo quelle sono la legge elettorale ma chiarire fin da subito chi saranno eventuali alleati di governo insomma c'è da immaginarsi invece che altre forze politiche mi viene in mente il Movimento 5 Stelle non lo dirà prima del voto se anche dove esserci una legge di stampo proporzionale chi sarà l'eventuale alleato la vedo difficile insomma quello che si possono costruire degli schemi prima del voto soprattutto per quell'area politica il Partito Democratico oggi a chi deve guardare soprattutto anche nei confronti dei fuoriusciti perché insomma in molti all'interno del Partito Democratico chiedono sostanzialmente di non fare alleanze con chi poi ha tradito viene definito così ora sulla legge elettorale ha detto benissimo Fabio quello è il punto il PD ha proposto l'Italia come è stato detto no ha proposto poi di ripartire in Mattarellum c'è stato detto di no ma coloro che per anni per mesi ci hanno detto che in 15 giorni si fa una legge elettorale hanno smarrito le proposte insomma c'è anche un costituzionale in 6 mesi sì ma come se è pochi giorni insomma quindi immagino stia per arrivare siamo tutti trepidanti forse hai un altro però ecco il punto è questo quindi il PD alcune proposte le ha fatte Matteo sa benissimo che dovrà lavorare ancora su quelle che dovrà cercare una convergenza più forte ma non esiste qualcuno si tira fuori dalla responsabilità di una proposta questo è il primo punto il secondo punto è che chiaramente ancora non ci sono dei punti fermi dove guardare quello che succede a destra del PD non è affatto chiaro Berlusconi dovrà decidere se stringe di più l'occhio a Salvini oppure se prova a ricostruire al centro una forza a sinistra anche lì mi pare che seppur interessante la proposta di Pisapia non si possano concepire in questa fase degli out-out il PD non possa ad oggi accettare che alcuni possibili allati dicano con me o con nessuno cioè con me e basta altrimenti no non è possibile oggi non è possibile perché la situazione è ancora molto liquida quindi stiamo a vedere certo è che la proposta nostra di Matteo Renzi del Partito Democratico era chiara maggioritario per evitare che si dovesse tornare a fare accordi a condicchi con forze che hanno pochi punti percentuali vorrei leggerla con questa chiave la fuoriuscita di alcuni da PD perché sanno che con un sistema non maggioritario hanno con pochi punti la possibilità di determinare le sorti di un'alleanza e di un governo che con loro io penso ci si debba parlare parlare sì noi quei voti dobbiamo recuperarli ma parlare con le persone parlare con i loro elettori riavvicinare chi si è sentito deluso quella classe dirigente no mi spiace anche per me ha lasciato il PD nel momento peggiore ha abbandonato la nave quando pensavano stesse affondando ora che invece abbiamo scoperto che le falle non c'erano e che anzi è più vive vegeta di prima francamente pare un po' singolare che qualcuno cerchi di risalire a bordo Catasciato volevo sapere anche il rapporto con il governo per quanto riguarda il PD sarà una scadenza naturale quella del governo insomma su questo Renzi sembra sia stato abbastanza chiaro nel dire il rapporto c'è anche se non è mancata qualche critica di tanto in tanto no ma io credo questi due mesi che si sono passati difficili perché non noi non dobbiamo sottovalutare il fatto che il PD per due mesi no per tre mesi non ha avuto un segretario nel momento in cui è stato cominciato il percorso di questo congresso tra l'altro lunghissimo perché c'è chi è andato via dicendo che sarebbe stata una comparsata invece è durato quasi tre mesi che è un periodo molto lungo questi tre mesi comunque il PD ha dimostrato di esserci ha rivisto nella manovra finanziaria alcune cose a me non pare un clima cattivo e anzi io credo che questi mesi che mancano alla fine della legislatura che tra un po' ci sarà perché sono i primi mesi del 2018 però possono essere utilizzati bene per fare alcune cose che non sono state fatte per intervenire sui temi dell'emergenza economica e soprattutto della povertà per chiudere alcuni decreti attuativi di alcune leggi che erano state fatte insomma ci sono alcune cose in ponte che al netto di un Parlamento che rischia non tanto nella parte democratica ma nel resto insomma del PD rischia di sfaldarsi sempre di più si possano portare in fondo quindi io credo che il governo deve lavorare e gli va data la massima fiducia da questo punto di vista però tutto questo è legato a che legge elettorale noi faremo perché su questo si gioca la credibilità del paese e la possibilità futura di costruire un sistema che sia davvero in grado di rimanere in Europa di dare risposte alla crisi ai cittadini è importantissimo la legge elettorale non è un orpello non è una cosa che si mette da una parte è il tema più politico in assoluto c'è il rischio secondo lei che insomma forse appunto magari non quelle che possono ambire a una percentuale ampia e quindi di governo possono sostanzialmente ostacolare il lavoro su un impianto maggioritario o comunque che guardi io credo di sì nel senso che purtroppo poi lo diceva Stefano ormai andiamo a volte con le mode per cui c'è sempre l'ultimo fatto che è successo noi abbiamo fatto tutta la campagna sulle riforme sull'Italia con questo terrore del fatto che il ballottaggio avrebbe in qualche modo così compromesso il PD avrebbe quando poi in realtà le cose cambiano di volta in volta abbiamo visto che l'Europa il cuore dell'Europa che è la Francia si può salvare da un possibile presidente neofascista grazie al doppio turno perché non è che Macron abbia trionfato Macron ha fatto un risultato al primo turno che se lo facesse il PD si considererebbe deludente sta sotto il 25% però grazie a quel sistema elettorale che quel paese ha da 60 anni al secondo turno si chiariscono le cose ci sarà chi vince ci sarà chi perde e noi possiamo con la vittoria di Macron dire che si è salvato un pezzo d'Europa non ho capito perché in Italia questo non si potesse fare però visto che per esempio si fanno i comuni sopra 15 mili capitati però al netto che questo non c'è noi bisogna dare da questo punto di vista una risposta bisogna dare da questo punto di vista una risposta chiara se non c'è la possibilità in Parlamento di modificare davvero il corpo forte di quello che è il consultellum in questo momento allora va migliorata la legge che è uscita dalla consulta quindi bisogna tornare sugli sbarramenti perché è curioso che in una camera si è ai 3% in una all'otto sostanzialmente in una camera ne entrano tutti e in una entrano tre partiti e basta va migliorata la vicenda delle preferenze per esempio quella al Senato ce n'è solo una e invece la preferenza di genere è importante terzo punto lo aveva proprio annunciato Matteo Rezio spero che si vada in fondo se non si cambia il corpo generale togliamo i capolista bloccati perché questi allora se non andavano bene prima poi non vanno bene nemmeno dopo si tolgano e si va tutti sul mercato elettorale libero come si dice volevo chiedere una cosa a Passiatore insomma so che su questi temi ne parlavamo prima ha una sua idea molto chiara perché un'altra questione che Renzi dovrà affrontare è quella poi interna al Partito dei Democrati perché insomma qualcuno l'aveva paventato non tantissima della verità ma qualcuno aveva detto se dovesse vincere Renzi uscirò dal Partito Democratico c'è effettivamente questo rischio cioè che il Partito Democratico come dire estingua un po' il suo potere insomma che nelle sue fila qualcuno possa venire via come si fa a tenerli insieme perché insomma ci sono anche diversi comuni dove il Partito Democratico ha appoggiato proposte alternative a quelle di Renzi si staranno insieme insomma beh io penso che chi fosse fortemente motivato l'occasione d'oro l'ha già avuta premesso anche lì fuori tempo ma l'occasione vera l'ha già avuta oggi può darsi qualcuno lasci ma non perché si è reso conto di non essere in sintonia con Renzi forse perché si è reso conto di non essere in sintonia con il nostro elettorato questo mi pare evidente mi sembra dall'atteggiamento tenuto in questi mesi da Renzi che alcune sfumature che hanno accentuato un po' le frizioni dentro il partito si sono venute meno per cui ci sia più disponibilità alla collegialità chiaro deve essere reciproca a me che qualcuno dica da ora in poi si farà la guerra dall'interno del partito emiliano preoccupa perché quella fase l'abbiamo già vissuta e siamo ripartiti dal via proprio per avere una legittimazione ancora più forte perché quello che non diciamo è che negli ultimi tre anni gli iscritti e pediti sono aumentati non sono carati quello che non diciamo è che le primare all'interno del partito gli iscritti hanno votato all'interno del partito sono aumentati in percentuale rispetto agli scorsi anni allora se c'è una nuova legittimazione ci deve essere una nuova lealtà da parte di tutti questo non vuol dire che non si può criticare ci mancherebbe ma fra la critica e il tira a piccione ce ne corre ecco noi purtroppo nei mesi scorsi abbiamo vissuto altro quindi non mi aspetto ci siano particolari fuoriuscite insomma rimango un attimino sostanzialmente la capacità come leadership e come carisma diciamo di poter competere con altri leader visto che oggi si afferma sempre più l'idea sostanzialmente del partito guidato comunque da un uomo forte Grillo Salvini sono degli esempi chiari ma ce ne sono in tutta Europa è questa una chiave? penso ci sia anche questa penso ci sia anche questa noi abbiamo destinato gli ultimi mesi ma direi dal 4 dicembre in poi a parlare di noi a parlarci addosso a parlare anche legittimamente di quello che deve essere per noi il partito e di come vogliamo stare all'interno del partito ma il problema non è qua il problema per quanto mi riguarda il problema è fuori fuori c'è un movimento che non è solo il Movimento 5 Stelle ma che è un movimento molto trasversale che mira a mettere in discussione l'idea stessa di politica che noi vogliamo rappresentare che mira a mettere in discussione il tema dei vaccini ma volendo anche il tema della messa a Firenze dove si mette in discussione è negatissimo vuol dire insinuare insinuare un virus all'interno di quella relazione fra cittadino e amministratore che può essere devastante allora in questo è chiaro ci vuole una persona forte che non sia esclusivamente apparenza ci mancherebbe ma Torenzi non lo è mi pare lo abbia dimostrato poi si può condividere o no ma certo ha dimostrato di non essere una figura vuota insomma all'interno dello scenario però è chiaro che va affrontato anche con questi temi quando Matteo Renzi dice che siamo stati poco su web è un tema verissimo è un tema verissimo perché lì sopra quella è una piazza dove si formano ahimè aggiungo io le coscienze politiche quantomeno elettorali di tante persone e perché noi non dobbiamo starci dicendo la verità dicendo quello che vogliamo fare dicendo quello che pensiamo del paese ma dobbiamo starci perché se non lasciamo quelle piazze a chi sa solo urlare e strepitare insomma giovane internet vedevo anche fare in catasciata annuiva su questo sono anche le chiavi per il partito democratico 2.3.0 insomma a questo punto si spreca quando Grillo dice il voto come fa il PD è un voto ottocentesco viva il web al di là dei dati che leggeva Stefano e sono un po' imbarazzanti sul fatto che abbia votato meno di mille persone in tutta Italia per le cliccarie si chiamano di Grillo però c'è un elemento di fondo reale cioè il fatto che io sono uno di quelli che quando va a votare a un seggio e prende la scheda credo come Stefano mi emoziono sempre per me è un atto assoluto sostanzialmente fare conti con tante generazioni per cui non è così perché cambiano tante cose perché c'è una società diversa più rapida eccetera e quindi essere presenti su piattaforme su modalità di interscambio che sono più rapide rispetto a quelle della politica classica è fondamentale se si vuole parlare a quelle generazioni e riformare anche le coscienze anche questo è un compito dei partiti grazie mille Fabio Incatasciato per essere stato con noi grazie grazie a Stefano Passiatore grazie a voi grazie a tutti per averci seguito la casa Telegram termina qui ci vediamo domani buona serata a tutti grazie a tutti